No, non l'hanno chiesto, no, non l'hanno chiesto, no, non l'hanno chiesto. Guardate, è stato un incontro, se debbo dire, rigoroso, in cui siamo rimasti all'interno del recinto che vi ho indicato all'inizio, cioè in cui c'è stata da parte delle due delegazioni, la loro delegazione era più folta della nostra, perché loro hanno un metodo politico diverso, quindi sono venuti in una folta delegazione, ma l'incontro è stato molto, direi, improntato a uno spirito costruttivo da tutte e due le parti. La mia opinione è che è stato un incontro positivo.